Ciao a tutti, buonasera. La notte che sognavi per archiviare, per mettere un po' da parte quello che è stato a Palermo, la delusione terribile di Palermo? Sicuramente è stata una delusione grande ed è per questo che penso che siamo stati doppiamente bravi perché affrontare una partita con l'approccio giusto dopo una delusione così grande non era facile. Siamo contenti perché il segnale che volevamo dare era quello di rialzarsi subito. Penso che l'abbiamo fatto, abbiamo avuto qualche difficoltà durante l'inizio ma alla fine è stata una vittoria importante per noi. Allora Giacomo, ti chiedo questo, al di là dei due gol, quanto il tuo gioco, le tue conoscenze, la tua capacità di saper fare le cose in un certo modo quando hai pallone, di dialogare con i tuoi compagni, di usare il destro e il sinistro, ti aiutano nell'introdurti e nello stare bene con questa nazionale che gioca a calcio? Sì, io credo che, ciao Leo intanto, credo che le mie caratteristiche mi portino a poter ricoprire più ruoli e magari in tante situazioni ad essere nelle condizioni migliori per esprimermi perché comunque avere la possibilità di utilizzare entrambi i piedi ti porta in situazioni soprattutto strette a riuscire a trovare una soluzione più facilmente perché hai la doppia possibilità. E quindi sicuramente oggi il merito dei compagni che mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi e penso che abbiamo veramente fatto bene. Io ho un'altra curiosità da spogliatoio perché Leonardo Bonucci ci ha detto noi veterani abbiamo parlato ai più giovani, cioè ai ragazzi come te. Gli abbiamo detto che avranno tempo per fare un mondiale ancora. Io vorrei sapere che cosa vi hanno detto, quanto vi hanno ricaricato i veterani e poi il commissario tecnico perché credo che gli siete stati tutti vicini e lui è stato vicino a voi in questi giorni. Sì, sicuramente avere compagni, persone, uomini di questo spessore al nostro fianco in un momento così difficile aiuta tanto. Sono stati due giorni, i due giorni dopo la partita sono stati tosti, ma penso che grazie a loro soprattutto abbiamo avuto la forza e il coraggio, soprattutto l'umiltà di ripartire da zero, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. E come ho detto prima, quando si hanno persone così, uomini, prima che persone, prima che compagni di squadre, calciatori, di questo spessore per noi giovani tutto viene più facile perché è un aiuto grandissimo e ci fanno sentire comunque pronti, anche se a volte le critiche sono tante, sono pesanti, ma è una fortuna avere compagni del genere al fianco. E come si riparte adesso dopo una delusione trasformarla, questa difficoltà, questa amarezza, in rappresentanza di un paese che chiaramente aveva accompagnato ed è giustamente adesso deluso, come si trasforma in un'opportunità? Qual è la strada? Io penso che, ho sempre pensato, il mio percorso è stato lavoro, lavoro e lavoro, avere il coraggio di sbagliare, il coraggio di andare avanti. Quando si ha un grande successo, il giorno dopo bisogna essere molto felici, ma deve finire lì e deve essere così anche con le sconfitte perché molte volte le sconfitte si portano le scorie dietro per tanto tempo e le vittorie si dimenticano subito. Secondo me la mentalità che dobbiamo avere è quella, quella di macinare, di avere continuità, di lavorare, di farlo con umiltà e coraggio. Complimenti, complimenti a Jack Raspadori, grazie. Grazie a voi, grazie mille. Buonasera. Allora, io ti chiedo una valutazione su questa partita perché oggi era importante rialzarsi. Il colpo che abbiamo preso tutti voi giocatori, noi che commentiamo, gli italiani, è stato duro. Oggi contava il risultato e contava tanto. Sì, assolutamente. Penso che oltre al risultato contava anche fare una prova di carattere, di atteggiamento e esprimere il miglior gioco possibile. Quindi penso che oggi, malgrado quello che è successo pochi giorni fa, l'abbiamo fatto. Allora Gianluca, ciao, ben trovato. Io in telecronaca ti ho definito, si dice spesso, falso attaccante, vero nove. Né vero né falso, ma completo. Invece ti voglio chiedere, secondo te, cosa ti manca, cosa cerchi per diventare il centroavanti titolare della nostra Italia? Beh, devo migliorare molto, soprattutto nei movimenti in profondità perché vengo troppo incontro e devo dare più profondità alla squadra e stare di più in aria. Avendo questo fisico devo dominare di più l'aria. Eh, movimenti mi vorrebbe dire all'immobile. Lui questo lavoro lo fa bene. Sì, sì, molto. No, io invece ti chiedo una valutazione sul momento. Abbiamo capito che Roberto Mancini andrà avanti. Tu sei uno degli ultimi arrivati, ma hai lavorato con lui. Perché in questo momento è giusto andare avanti con questo allenatore al di là dell'europeo vinto? Per voi ragazzi, per voi più giovani. Perché comunque lavorare con un grande del calcio è uno stimolo in più. Poi ha fatto un lavoro eccezionale e io personalmente penso che si possa ripetere col tempo. Assolutamente. Poi ti chiedo una valutazione sulla tua traiettoria personale perché Lele, la sua storia, la storia di Gianluca Scamacca, è incredibile. Da giovanissimo sei andato all'estero. Non è stato così scontato essere qui questa sera al centro dell'attacco dell'Italia. Se riguardi tutto, tutta la tua storia, tutte le tue scelte, oggi che cosa pensi? No, penso che ogni scelta che ho fatto la rifarei e sono orgoglioso di dove sono ora. Ma non mi voglio fermare qui e voglio continuare a migliorare step by step, a dare sempre di più. Il limite è il cielo, no Lele, per un giocatore con queste caratteristiche? Io direi di sì. Quello che è il nostro augurio a te e tanti tuoi compagni molto giovani è di prendervi quello che, diciamo così, il destino è lì che è pronto a darvi. Perché Mancini stesso ha chiamato questa nazionale a un rinnovamento, ha detto che ci saranno dei nuovi innesti, ragazzi più giovani come te, come Raspadori, come Zaniolo, come Tonali. E quindi questo è il vostro tempo e non sprecate nulla per arrivare a dare quelle soddisfazioni che avete dentro, le caratteristiche, quello che va dato madre natura. Sì, sì, assolutamente. Non dobbiamo sprecare il tempo, dobbiamo lavorare senza mai accontentarci e mai sentirci arrivati perché penso che non si arriva mai. Non bisogna mai sentirsi arrivati. Io ti faccio un'ultima domanda, Gianluca, prima di salutarti e di ringraziarti. Nel 2017, quando non andammo ai mondiali, perdendo con la Svezia, tutti dicevano, qualcuno di noi anche, e non c'è talento per ricominciare, ma come si fa, com'è, facciamo ad andare avanti. Mancini disse il talento c'è e alla fine abbiamo vinto l'europeo. Se ti guardi intorno, ragazzi, del 99, del 98, del 2000, cioè gente della tua generazione, tu il talento lo vedi in Italia o secondo te siamo sotto alle altre nazionali? No, il talento c'è. L'unica differenza è che nelle altre nazioni viene dato più spazio e più possibilità di sbagliare perché forse, non lo so, hanno una mentalità diversa, però anche noi dobbiamo, penso, lavorare di più sui giovani e farli crescere e dar modo loro di sbagliare. Mi sembra corretto e sottoscriviamo. Grazie a Gianluca Scamacca. Grazie. Grazie. Grazie.